Per Caserta Focus Calvi Risorta, comando stazione Carabinieri, piazza Municipio, dove pochi minuti fa hanno fermato un uomo dopo che è scautorito un breve inseguimento per le strade di Calvi Risorta. Attualmente è stato fermato presso la locale stazione Carabinieri per i dovuti accertamenti. Sembrerebbe che l'uomo sia stato arrestato. Avremo la conferma nelle prossime ore. L'uomo fermato è di Calvi Risorta e si tratta di un ragazzo di circa 30 anni, già conosciuto all'autorità giudiziaria per altri fatti. Con questo è tutto e vi daremo nuovi aggiornamenti.